quindi mi vedete e mi sentite com'è il microfono ragazzi sono molto home made sta partendo in anticipo o è il pre-show? ah no è il pre-show con calma microfono più che buono io sento un volume altissimo in tutti mi piacciono queste cose amatoriali ragazzi mi piacciono da morire sta mentendo no in realtà questa la accetto nel senso che sappiate che avevo preparato una chiavetta con tutte le grafiche tutte le animazioni tutti i suoni la musica da effigie avevo preparato tutto e poi ho preso lo zaino sbagliato quindi eccoci però se avete visto la storia su instagram ho proprio per queste occasioni solo per queste occasioni acquistato due componenti super high end del gato perché questa non è la webcam del portatile e questo non è il microfono della webcam del portatile quindi for close ragazzi spammate il click e for close spamma il link del mio sponsor e il gato perché se lo meritano in tutti i casi hanno o meglio se lo meritano sono ottimi prodotti ma non me li hanno inviati loro li ho comprati quindi se lo meritano relativamente quindi niente link no no link link allora il capcom showcase comincia tra poco meno di un quarto d'ora lo streameremo qui i vod che avete visto scomparire a causa di protezioni da copyright esistono anche su twitch non soltanto ricaricati su youtube ma ci sono anche su youtube qui li trovate non direttamente in trasmissioni precedenti ma nei contenuti che vi sta notificando la moderatrice quindi nei caricamenti e in evidenza oggi sintetizzando anche per quello che sarà poi il re-approvedo su youtube senza andare a fare chiacchierate troppo prolisse mi ripeto perché era in live lo sintetizzo perché sarà in past broadcast non mettiamoci a discutere di polemichette e presentazioni di cosa parlo del classico già visto e rivisto non è la prima volta che dei pan pan nel termine più dispergettivo al limite dell'otaku come direbbe otagon in epoche passate di fan che spaccano gd e sbattono i piedi capricciosi non è la prima volta che sentiamo questi eventi accadere nel mercato è l'ennesima ne parleremo in altra sede in un talk show un pochino più dedicato un pochino più effigistico non con Cain's Peace in background che è antitetico all'argomento così come non è ancora il momento di affrontare una discussione più completa nei confronti di un post mortem e un debriefing della presentazione di Starfield e di quello che sta accadendo all'interno delle community che lo hanno già vedo in chat il rinominato Star Chip certamente non ha lasciato a bocca aperta come si sarebbe potuto presumere anche in nome del fatto che esistono dei recenti fallimenti di Bethesda se fossimo all'epoca di Fallout New Vegas a nessuno sarebbe importato del fatto che non fosse visivamente una cosa mai vista prima o ludicamente l'avanguardia mai percepita da videogioco fino ad oggi ok quindi tempo al tempo dateci datemi datevi la possibilità di superare questo background e questa situazione e poi ci faremo una bella chiacchierata analitica e inquisitoria sia del pubblico sia delle presentazioni delle aziende che l'hanno fatta ma tra poco comincia il Capcom Showcase e sono contentissimo di poterci essere perché fondamentalmente Capcom ormai lo sappiamo da anni ha superato la sua fase Crapcom no Crap Capcom Crapcom sì è diventata Crapgod esattamente esattamente mi ricordo mi ricordo esattamente quei momenti ragazzi Street Fighter 6 non sarà Street Fighter 5 nel lancio questo è quello che credo l'azienda avrà proprio attentamente cercato di evitare allo stesso tempo ci sono stati dei leak all'interno di Reddit e Company nei confronti di quello che verrà presentato non aspettiamoci cose mai annunciate prima però diversi approfondimenti interessanti i più importanti dei quali potrebbero essere 1 ovviamente Street Fighter 6 più esteso 2 Resident Evil 4 Remake 3 Monster Hunter Rise a quanto pare è dato per certo un trailer esteso della storia che poco importante che sia all'interno di quel tipo di prodotto per me comunque ci permetterà di dare un'occhiata ad alcune creature forse inelite e poi la speranza del DLC di Resident Evil 8 secondo me è da tenere molto molto quieta così come Dragon's Dogma 2 dinanzi a questo showcase dichiarato così tanto pacato la vedo ostica ragazzi speranza da realizzare molto molto ostica anche perché secondo me siamo lontani ok mancano 8 minuti la chat è impazzita sono molto contento di vedere 10.000 spettatori dinanzi a Capcom in realtà questi eventi vengono sempre visti dopo divisi in trailer e nessuno se ne cura più di tanto se non per flammare ma parliamo anche di quello che faremo con Monster Hunter io dietro le quinte sto finalmente ricostruendo il salvataggio che avevo su Switch con Mira a fine giugno arriva Rise prima di fine giugno torneranno le dirette che prepareranno l'endgame dell'Irank di Monster Hunter Rise per prepararci alla maratona di partenza di Monster Hunter Sunbreak che sarebbe l'espansione per chi non conosce il titolo non è un terzo gioco è Monster Hunter Rise Sunbreak eh ma iRex Serie dice l'anno scorso fu disastroso il Capcom showcase ma perché gli showcase specifici fuori dai palchi in cui comunque i publisher tendono a presentare le loro cartucce più forti raramente sono ben preparati abbiamo visto io 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 vi inviterei quasi balbettante a balbuzziente a ricordare la presentazione di Cogmedia la scorsa volta sono cose da valutare con grande attenzione prima di buttarle online secondo me Dino Crisis Remake è una scemenza adesso non credo che invecchieremo senza no per quanto riguarda Sunbreak ci sarà una maratona e poi un giorno fisso in cui lo giocheremo forse avremo un periodo in cui aggiungeremo qualche live di fuoco appena uscito ma non sarà una sequenza di maratona e quella è finita ce ne sono una ce ne è una ogni tot anni ragazzi il concetto di maratona live può esistere come review blind run in cui gioco talmente in maniera unica un videogioco per farne poi una recensione che da quando esiste tutto rima penso posso farlo insieme ai ragazzi poi l'analisi la faccio giocando e poi una volta finito mi vedo lavoro come è successo con Cyberpunk che ha portato quell'effigie meravigliosa e me lo dico for bragging rights è uno dei miei più bei video lo faremo probabilmente anche con Starfield ma non con altro devono essere quei prodotti che occupano così tante ore che mi porterebbero a stare così tanto lontano dai contenuti che mi fa sentire in colpa non approfittarne per invece esserci all day long cioè è una cosa che finalmente posso fare che un tempo invece mi faceva ricevere i messaggi oh ma non stai a fa un cazzo dove sei sto facendo una recensione eeeh adesso invece posso starci live e dire ma quindi non fai un cazzo non stai facendo nulla stai giocando sì ma puoi fare la recensione eeeh no ok mancano cinque minuti esattamente allora abbiamo ancora la bottiglia d'acqua i nostri 30 gradi qui i miei mi stanno facendo sentire è vero abbiamo delle bottiglie dell'hotel spring water ok allora per quanto riguarda oh ma l'anima oscura sta a fa un cazzo esattamente poverina ragazzi l'ultima cosa che vi dico è che mi dispiace normalmente tenervi ancora appesi per dei contenuti così importanti ma nonostante la prossima uscita non sarà l'anima oscura 3 ho in mente come vi ho già anticipato una cosa di cui non voglio farvi hype o crearvi aspettativa facendo whip tutto il tempo adesso che ho finito la maratona di Elden Ring mi metterò a produrre un format nuovo che farà felici tutti mentre piano piano ricostruisco la situazione per poter riprendere oscura ma vedrete vedrete allora io ho sbagliato ah no ok non l'ho sbagliato perfetto pensavo di aver cancellato il browser io ora apparirò ragazzi in chat tramite cellulare ma chiudo chiudo con eleganza la musica senza darvi un cut out brutto li butto giù l'audio vero accelero fatemi sapere se i volumi sono troppo alti io ora ve lo alzo mi abbasso io mi rimpicciolisco è tutto così difficile con un monitor solo ragazzi abbiate pietà ok lo teniamo così così non potrò abbassare no potrò farlo dal video potrò farlo dal video abbasserò io dopo ok allora ora vi chiedo non vi posso leggere ditemi si vede fullscreen? si vede fullscreen? ok quando parte la conferenza quando parte la conferenza sapete che alzo il volume della conferenza o lo teniamo così ditemi se lo teniamo così o ve lo alzo oh ce l'abbiamo fatta lo stiamo seguendo? lo stiamo seguendo? ce l'abbiamo fatta davvero ragazzi ce l'abbiamo fatta poteva andare tutto male anche se dopo il grande successo dal matrimonio di mia sorella tutto indiscesa fai la can più piccola yes abbiamo 20 secondi per farlo ecco giustamente non posso tagliarmi così tanto ecco c'è anche Lara qui accanto ok 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 Quello era i Saturni, tra l'altro. Peccato che non è Ghost Trick. Ciao, tutti. Grazie a capcom, dove mettiamo nuovi 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 pelati. Abbiamo alcuni surprise in store, e spero che vi divertite la show. Let's beginne. Ciao, tutti. Sono Morioso Tsujimoto, produzione del Monster Hunter. Grazie per aver finito l'inizio del Capcom. ed esci subito per il pc. Sarò pronto eh ragazzi, vi faccio un mazzo per arrivare con Mira pronto, ma lo saremo. Sì sta laggando un sacco, ma è lo stream loro, esatto, è la vecchia mappa, esatto. Hanno fatto tornare gli insetti ragazzi, nooooooo, avete visto? Io non posso, non posso reggermi quanto vorrei. Anche gli insetti, non solo granchi. Ah, sub-species. No. Ah, ah, il gore, il gore. Finalmente. Quindi mettono il frenzy? Questi sono in hotel, non posso urlare più di tanto, devo essere estremamente elegante. Vediamo se usciamo ad abbassare la risoluzione. Ma non siamo noi eh? No, perché infatti alla fine non lo facevo. Eh si. No, no, va a scatti comunque ragazzi, la rialzo. Non siamo noi. Eh ma io vedo laggare. Ah, da veria è a fluido. E sarà il PC allora. Vado su un'altra live. Capcom Europe. Vado su Capcom Europe. Quindi ad altri lag da Capcom USA. Ok, ok, ok. Capcom Europe. Tanto ma che siamo super in diretta ci sta, vale la pena. Capcom Europe. Ok, ok, ok. Ah, qua è fluido, qua è fluido. Ok. Eh, non ho bisogno di stare sul pezzissimo. La qualità vale di più. Mi riguardo il gore che va fluido. Grazie ragazzi. Yes, non siamo noi. Yes. Lo stavo rimanendo malissimo. Comunque. Ragazzi, a livello di creature quasi tutti i miei sogni si sono realizzati. Lug Daktor arriverà sicuramente. Ma rivedere granchi, insetti e gormagala è come rigiocare Generations Ultimate o Monster Hunter 4. First let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. You'll notice that the jungle's appearance changes over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And, of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Sunbreak. Long time fans can look forward to exploring the devastated ruins around the coastal area. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. Non l'ho mai visto. Espinas means thorns in Spanish. As the name implies, thorny scales cover its body. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully. But when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, Espinas has a two-faced nature that can be extremely dangerous. Ah. Così finalmente mi ricordo anche il nome dell'uccello elettrico. L'ho dimenticato. L'argogno di un cane. L'argogno di un cane. L'astalos. As Gormagala's sensing ability increases, its two horns change form and it enters the frenzy state. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during powerful attacks. Oh. Oh. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar and the Pyro-Rachna-Kadaki subspecies, which adds explosive elements, makes its fiery debut. Non l'avevo riconosciuta con le Rachna. Ah no, infatti non era la Rachna. There's one more thing I want to share with you all, so please watch the following video. Okay. That's what I'll do when I turn. allora ragazzi si mettono il malzeno come se fosse il magna malo è ovvio che come al solito il malzeno e lo step before il veri 2 final boss del g-rank ma sta diventando generations ultimate aggiornato modernizzato e ripulito è una gran cosa a livello di gameplay la switch skill è fondamentale system as well as new silk bind attacks will be available for play we'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves after mastering the basics you'll be ready to take on other monsters in the demo to test your skills for veteran hunters an advanced quest will also be available where you can take on an extra challenging version of sunbreak flagship monster malzino the demo supports multiplayer for up to four avete sentito che ha detto nella demo il malzino sarà extra challenging rispetto al gioco sunbreak come è sempre stato stanno rivelando con grande chiarezza i loro modus operandi con le demo è sempre stato così ragazzi più difficile in demo che nel gioco quando purchasing monster hunter rise sunbreak so you will be able to enjoy all the added content champions ここからは無料 title updateの情報についてお伝え致します まずはこちらの映像をご覧下さい Ok. Ragazzi, sono anni che lo volevo. Ragazzi, sono anni. Sono anni. Anni che ve ne parlo. E da quando mi avete conosciuto con Monster Hunter che vi parlo dell'U-Send. Oh, Dio, c'è l'U-Send. Quindi parleremo meglio. Quindi parleremo meglio. RISE è partito male, ma con il G-Rank sta diventando come World per fortuna. Ottimo. Ottimo, perché era manchevole, ragazzi. Magari se funzessero le investigations al posto di farci farmare inutilmente una questa, come i Monster Hunter 3, per ottenere il charm lentamente, nel mettere nei craft i materiali, per poterli chiamare, per poterli verificare, per poterli buttare, sarebbe meglio, eh? Grazie a tutti. 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 35th anniversary of the street fighter franchise the capcom fighting collection will be released later this month included is the first ever release of red earth outside of arcades hyper street fighter 2 five dark stalkers titles and more 10 of the best fighting games from the arcade era are included in one package all of the titles included will be playable online so play a match against your friends or fight online against new challengers enjoy a full range of online matches capcom fighting collection will launch on june 24 2022 pre-orders are available now please visit the official website for more information play the games you loved again capcom arcade stadium has expanded capcom arcade second stadium coming july 22 2022 saturday night slam masters magic sword black tiger eco fighters and more combined for a total of 32 arcade titles in addition to a bundle that features all 32 titles each title is available for individual purchase and features with lots of quality of life options all players will receive sun sun for free when downloading the base game the bundle featuring all 32 titles is available for pre-order now get display frame set one as a bonus for pre-ordering to celebrate get the capcom arcade stadium title street fighter 2 the world warrior free for a limited time we hope you try out the capcom arcade stadium as well next up is an update on capcom's new team-based action game exo primal and not a final crisis e ha molto da dimostrare comunque perché non era particolarmente emozionante la prima volta che è apparso i am the artificial intelligence leviathan dopo parliamo del pantheon your personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment under my supervision iveus corp conducts its most important research here welcome to vikitoa island you have been selected for a live combat test the first team to complete their assignment wins my archives encompass exhaustive records of human history these annals are riddled with errors and institutional bias your species is susceptible to mass delusion fascinating humans dread the other you seek to evolve yet you do not want to change you tear down curtains yet fear revelations even when what is revealed is of your own creation combat data is required to develop the exosuit combat data is required to develop the exosuit at iveus we're always reaching for better always humanity resists quantification an interesting variable within your behavior lies the answer what is variable shall become fixed humans fight and die for me i call your attention to the unstoppable raptor or calculating chance of employee retention chance calculated at 8.7 percent you must fight harder than ever if you wish to survive a more clueless combat experiment is called for you will now witness a small fragment of the war game you need to keep fighting until we can figure out how to destroy the battle the battle is it's a big thing but it's a big thing 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 we'll see you how did it we had to read the game how was it going to be? I will tell you about the game I will tell you about the詞 in the video of the new generation AI Yvaya Grazie a tutti. 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 Sarebbe... Grazie a tutti. 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 Mi lancia la sedia. Mi lancia la sedia. Allora, la nuova serie è il nuovo scenario. Shadows of Rose. Desserti a tutti. Vabbè, ma bellissimo. è quello che speriamo. Pensiamo che deve vedere. Ammazza! Ma sì, non avevo risponcato da con se la conoscenza parlava. E ma di le... Un posto di ventilo. Ma come si trova la libertà del suo misterio? La DLC per Resident Evil Village Winter's Expansion includes all three of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28, 2022. Yeah! Resident Evil RE-Verse will also begin service on the same date, October 28, 2022. We hope that you are looking forward to it. It's a fantastic game. It's better than the rest of the world for you. Oh, it's ok. It's all fun. Grazie, grazie. Presenti il 4 remake. Sì. E dai Capgod, brava! Continua così. Eccoci qua. Ok, vediamo un po' questo remake. Bello showcase. Peccato per Dragon's Dogma che non butta neanche un port. Gesù. Il primo. Che è l'inforzato. Scopo. Let'su. Un po' questo. Il primo è stato spreato questo. Sì, tu, io... Be' drunga spot to vacation, eh? You'll receive our most sacred body It begins now If I could just forget what happened in that night The pain Even for a second This time It can be different It has to It is 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 It is